Sono il dottor Renato Di Stasio e ho conosciuto Corrado e quindi Marketonsia grazie ad un amico e collega. Circa un mese che lavoriamo insieme e devo dire che sono molto soddisfatto di tutto il suo lavoro, di tutto il suo staff e stiamo avendo dei risultati veramente importanti, cose che non immaginavo. Per cui per tutti i colleghi che si vogliono approcciare al marketing in maniera etica e corretta consiglio milamente Marketonsia.